Buon fine settimana a tutti, sono Luigi on Aracu se preferite e bentornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle Oggi analizzeremo il pull or note nella nuova batch di Freezer Full Power LR Andiamo a vedere un attimino se vale la pena o non vale la pena pullare Legendary Summon a quanto pare post natale con il Rising di Tramay, Trunks e May come cavolo volete chiamarlo Si sono totalmente dimenticati le esistenze di Rising Dragon anche perché Quei reti che hanno LR sarebbe tipo la cosa più bella di sto mondo o Rising Dragon Ma a quanto pare si sono totalmente dimenticati e ci stanno buttando solo Legendary Come se non bastasse nonostante siano passati ormai 6 mesi quasi dall'anniversario Ancora non sono visti GPT e il nostro carissimo Baby LR Qui non ci importa nulla ma GPT poteva essere carino all'interno del Coin Shop Quindi bisognerà ancora aspettare Abbiamo però questa nuova LR di Freezer Andiamo per tutto a vedere i PG Featured Dividendoli da PG totalmente inutili a PG che hanno una qualche utilità Allora Goku Kid STR GT Totalmente inutile Freezer Final Form STR buono Lui non c'è che dire davvero un buon PG Si gioca in Strongest Clown in Space Arriva a fare danni davvero carini Magari non è indicato per la Rival ma nelle altre modalità è davvero enorme Quindi promosso a pieni voti Goku Kaiyo fisico è molto lento Non mi ha dato molta soddisfazione nella Rival Però magari alcuni di voi potrebbe darlo Non è un PG decente ma neanche un PG da buttare Freezer GT Sinceramente nulla di che Anzi un PG bello che è passabile Abbiamo poi Goku di Cointech Che portato a tour ragazzi è Davvero un signor PG per la Rival Tanca davvero bene Inutile AGL Super Saiyan 2 Inutile Tech Inutile STR Chiamiamolo così Questo è il trio delle inutilità totali Sono probabilmente tra i peggiori PG che possono uscire Non quanto a livello del prossimo Ma davvero terribili C'è poi l'inutilità fatta a persona Ovvero Goku Genki Dama fisico Che manco lui sa che cosa serve E abita in un limbo di inutilità globale Goku Super Saiyan 2 Kid GT Che sono stato felice di trovare Perché a tour è un PG davvero carino Per chi non ha team completi Può davvero dire la sua Golden AGL Che ormai Non è putato abbastanza inutile Però per chi ha gli inizi alla fin fine Potrebbe non esserlo Potrebbe essere comunque un qualcosa Di quanto meno giocabile Per riuscire a fare i primi I primi stage un pochino più tosti Quindi Ci sta E poi abbiamo lui E lui o non è lui? Certo che lui Full Power Freezer LR In cui l'analisi vedrete domani Ragazzi non vale pullare per Freezer Io ci ho pullato in quanto era una sponsorizzazione che dovevo fare Quindi per cui Frega nulla se Non era Da pullarci È un video sponsor E poi Ne ho approfittato per avere già I coin a posto Perché le caolifla O se magari Nella pro leggendaria Trovo che le caolifla Per virus LR Che sono ad oggi Le due LR Delle tre che mi mancano Che vorrei Però ragazzi davvero L'avete visto a full ability Nel video showcase Ma quello era il full ability Ad ability bassa FPF Il classico Gli sta sopra Che Gli sta tanto sopra Infatti io lo porterò a LR Ma dubito che lo utilizzerò Questo Freezer Quindi non ne vale la pena Almeno questo Se siete free to play Se siete dei delfini Se è ringraziato il cielo Il reselling È tornato più veloce di prima Potreste fare Un paio di multi Non esagerate 500 stone come ho spese io No Assolutamente Non è La cosa migliore Spendere 100 200 Se shoppate 100 Facciamo Non è sbagliata Come cosa 200 no Perché Comunque i prezzi Stanno diventando Pian pianino Come quelli di una volta Sono ancora un po' più alti Però Ci può stare Ci può stare Quindi Un paio di multi Per cercare la LR Non per forza lui In generale La LR Ci sta I rate Iniziano ad essere davvero interessanti Per trovare la LR Quindi Se ne riesco a portare a casa Parecchi Io in 500 Sono portato a casa 2 Però So di gente Che Se ne portate Anche di più Con meno stone Quindi Ci può stare Per chi Però non shoppa Questa bacia Da saltare Totalmente Iniziere a risparmiare Per agosto Con possibili 300kk in vista Ragazzi È importante Tenere da parte Il più possibile Ve lo dico Quindi Tenete Tenete per allora In modo da In modo da Essere pronti Per un eventuale Dual fest Come è probabile Che ci sia Se shoppate Invece Si può anche Star più tranquilli E pullare Davvero più semplicemente Alla fine Nel momento In cui Torna Attivo Il servizio Chi shoppa Ha molti meno problemi Detto questo Fatemi sapere Se avete pullato Se avete scullato Anche voi Ho già sentito Di gente Che ha trovato Che le caudifla Ha trovato comunque Anche loro Le LR Nella prima multi Lasciate perdere Quella gente Che non sa Che cavolo dice Che parla Scusate Che parla Di account Glicciati Altro Che so Cazzate Cioè Chi parla così Ha proprio Un'ignoranza In fatto Di leggi Giapponesi Dei gacha Games Che fa ridere Semplicemente Perché Esiste una cosa Chiamata sfiga Se la gente Non trova nulla E' anche Molto probabile Che sia Semplicemente Una gente Sfigata Succede a tutti Anch'io Su alcune Batch Io Infine Quando non ho avuto Il reselling Ci sono stati Molti Class leader Che non ho trovato Anzi Praticamente Nessuno Tranne Quelli del Dual Quindi Inutile Alla fin fine Dire Di account Glicciati O altro Non esistono Gli account Glicciati E' solo Rosic Per quando si Vede che qualcuno Pulla la roba Quindi non state Ascoltare Ringrazio Mi ha seguito Noi ci vediamo domani Con l'analisi Di Freezer LR E ricordo a tutti coloro Che volesse usufruire Del servizio Che lo possono Tranquillamente Trovare In descrizione Tramite Il caro Leo Alla prossima Allora Buona sabato E Preparatevi Perché dato che Ha vinto Ci sarà Presto Un video Anche su Seven Deadly Sin Ho sbloccato oggi Il PvP Quindi Riesco a vedere Anche le ultime cose In modo da preparare Al meglio il video Alla prossima